Che a me si ha? Cos'è questo? Sentire lo scagnolo. Qualiente possibilità di scivolamento In scivolamento se noi ci bagnate Un minuto, ho un gran bel dato Non ti dare, lo ricoprendo in piano piano o anche se si può fare Vai, dai, su Allora, ora? Vai avanti a te che noi siamo scappatoriti No, non ho la capata cagare A te, a te, ma sei volgare ringrazio Dio che ci avevi l'impegno con la banca d'Italia è un lavoro ingegnoso puoi trovare il sentiero puoi usare di ricavarlo qua portarci poi a mano i sassi andare a recuperare allora? è un bel sentiero eh questo pezzo qua è più eh ma che bello hai visto che bello ambientino? va che bello vieni avanti tutto bene? come vai? oggi è affoso ah perché è affoso non è la fatica sono proprio è in piano ah perché è in piano? com'è in piano? ah è così? 20% ah vabbè te esageri sempre andiamo andiamo adesso si va a destino certo eh il bello è quello qua l'avventura dov'è se no? eh eh William eh è in piano 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 a 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 e voilà ecco ah si allora te la fanno la avete un po' spaventata come mai? vedete che queste frana qui sono cazzo? si porca lama d'ostia date sull'ostia eh porco figo ma che forza di là oh claudio com'è? eh? è duro è duro ok siamo arrivati sulla strada si caspita ragazzi bello è una bella esperienza eh ma quel pezzo qua mi è piaciuto è bello questo pezzo qua a scendere di là un po' meno vabbè qua sono tutti quando hanno finito sono tutti eroi eh si allora Flavio siamo un po' di sguocci eh bella spezia da gita si ultimini eccoci qua hai visto? bel puntesele eh va in moto va in moto Dio va piano il casco il casco il casco come fai a scendere? e adesso a scendere come fai? conosce a lance vediamo c'è la gamba di sinistra la gamba di qua la gamba di sinistra così eh si salto ti aiuto questo ma tu hai ma è un butone bello bello oh la gamba rigida c'è la gamba rigida eh c'è la gamba rigida si c'è la gamba però eh è stato bello più vericoso quel pezzo qui che è tutto il giro ma ti è piaciuto il giro? molto 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 bello faticoso va bello anche oggi i nostri eroi sono davvero eh bravi complimenti bravissimi bel giro si si un girode dell'inferno un girode infernale un girode infernale che c'era anche il diavolino c'era anche il diavolo è vero come anche il diavolino